L'Arezzo Calcio Femminile proda in Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale, Alessio Mattesini, ha infatti portato i saluti dell'Assemblea a una delegazione della società Maranto presente in aula, applaudendola per il lavoro sportivo che sta svolgendo a stretto contatto con il tessuto cittadino e per essere diventata una delle realtà portamandiera dei colori di Arezzo in tutta Italia. È un modo per ringraziare queste ragazze che portano avanti uno sport che è considerato maschile, che invece ha tante risorse anche nel mondo femminile e soprattutto perché con il loro amaranto portano lontano da Arezzo con risultati straordinari. Gli obiettivi sono far crescere questa squadra e soprattutto mentalmente, che è importante perché avendo preso un allenatore come Manuela Tesse, queste ragazze avevano bisogno di capire cos'è un calcio professionista e soprattutto di salvarci. Lo scorso 21 ottobre l'Arezzo Calcio Femminile aveva organizzato al campo sportivo Roberto Lorentini la manifestazione sportiva in gioco per gioco, una partita del cuore in salsa retina volta a raccogliere fondi per l'empa di Arezzo, nel corso della quale si erano sfidati a suon di reti oltre alla prima squadra a Maranto, il team giornalisti e la rappresentativa del Consiglio Comunale che da subito ha sposato lo spirito e l'intento benefico dell'evento. Grazie a tutti.